...di Canji, che si sta dimostrando un uomo in giù di San Severo questa sera, è a sé in questo... ...e restituisce la palla a Cotton per la gestione di questo possesso, Cotton brucia, Ciccerini, vola inchiodare e subisce anche fallo! E' la dieci minuti che non vedevamo... Ha ricevuto Cotton, si fa vedere Sherrod per un blocco, Cotton che prova a penetrare contro Martius, gran passaggio per Sherrod che ha tutto lo spazio per segnare... ...e Asbrook, questo è il quintetto per Ferrara, certo invece riparte ora con Moreno, scarico per Cotton che prova la tripla e realizza! Passaggio alto con Berti, Berti che poi serve Cotton, 50 secondi alla fine del primo quarto, Cotton fino in fondo, fallo e canela! ...contro McDuff, buon close out del numero uno, Cotton a mano da fuori, bella palla scherzata per Peric che fa saltare Guariglia, bellissimo... ...ha fatto di mezza il disavanzo e ora è il turno del club di provare a difendere ma vedete non c'è difesa fino alla fine del terzo periodo... Cotton non sfrutta la transizione, in angolo fa saltare difesa, tiro a tre che va a segno! ...dibile con Cento che ha fatto fatica nei primi 3-4 minuti a segnare e poi Trapani ha preso il volo... ...Cotton per la tripla di Leonzio che con prestazione corale... ...Cotton ancora a ritmi molto bassi, prova da 3 punti e non sbaglia, si sblocca così Cotton... ...dopo dopo il terzo quarto da 15 punti, Berti con il consegnato per Cotton, un ugliete aggressivo sull'americano che lo batte con un gran primo passo... ...Berti fuori dai 6-25 e 6-75, Cotton prova a servire Berti... Poco l'anticipo su Cotton che scambia con Leonzio, blocco di Berti, Cotton va dentro in slalom, gira intorno a Simeone... ...energia adesso, Cento deve sentire l'odore, il profumo, mentre Cotton va fino in fondo, subisce fallo, più 11... ...Berti si fa vedere di nuovo Cotton che va a ricevere il consegnato, può andare fino in fondo Cotton che semina Renzi, segna col fallo... ...Sequio Cotton porta un nuovo 6-0 nel parziale, per ora si va avanti di break e contro break... ...Peric, c'è tutto lo spazio per andare fino in fondo, fallo e cane... ...Quel peso fisico che aiuta sicuramente la squadra di Coach Sorgentone a fare la differenza... ...Cotton se ne va via a Meluzzi, alla grande, poi segna dalla media... ...esce Leonzio, la recupera lui, Cotton da 3 punti, questa volta se lo prende lo segna... ...Il terzo quarto, Moreno chiama schema, riceve Sherrod, si fa vedere Cotton che prova da 3 punti da distanza siderale... ...e qui risale, si allontana dall'area, 8 secondi alla fine del possesso, vorrebbe Peric che però non trova spazio... ...Allora Cotton si prende la responsabilità, da 3 ancora Tecchio Cotton... ...Piazza la palla per Gasparini, blocco da parte di Verti, Gasparini scarica fuori per Cotton... ...Finge il tiro, poi decide di penetrare, scarico ancora per Gasparin... ...Ed è questo il terzo fallo di squadra per Ravenna nel terzo quarto... ...Adesso centra nelle mani la palla del meno uno del potenziale pareggio, Cotton palleggio... ...Prende il tiro... ...A segno...